Manca poco più di un'ora al calcio d'inizio della finale Italia-Germania. L'evento di oggi, 22 aprile... Già il 22. La notte del condominio viene pagata? Sì. E sono arrivati anche luce e gas. Gli altri sono finiti. Non è che posso fare la spesa tutti i giorni. Ma non puoi mangiare qui! Ehi, dove vai te? Che c'è? Aspetta un po', signorina. Ci sono le camicie da stirare, la lavatrice... Faccio domani, mi aspetta. Oh, ma devo fare tutto io in questa casa! Pronta? Ciao, Michela! Come stai? No, figurati! Stavo stirando! Ah! Così mi riposo un po'. Vai, come vuoi che vada! Sempre la solita cosa! No! Sono sola! Sergio è al lavoro? Fa il turno di notte? Ah, lui sta bene! Sì? Sì, sì, anche Giorgia sta bene! No, non va più a scuola! Ma no, ma con la terza media cosa vuoi che faccia, eh? Ma dimmi di te! Come state? Mi basterebbe anche solo cambiare città, ma anche solo zona. Un monolocale per i cazzi miei, per i cazzi miei, per ricominciare. Ma chi me li dà i soldi per un monolocale? Sì, è una prigione la mia. Scusa, mi sta suonando il cellulare. Ti posso richiamare? Sì, è una prigione la mia. Ciao. Ciao, ciao! Pronto? Sì, sono io. Che è successo? Non è stata il condominio a via pagata? Sì, sono arrivati anche luce e gas. Gli altri sono finiti. E non è che posso fare la spesa tutti i giorni? Ma non puoi mangiare qui? Vabbè, io vado. Ma che ora ci si becca con gli altri? Ce l'hanno la roba. 1-0 per l'Italia. 2-0 per l'Italia. Vado in pausa. Hai visto Cerrato tutti quei permessi e poi l'hanno lasciato a casa? Sì, ma l'hanno lasciato a piedi parecchio di quel turno. Tutti fancazzisti. Almeno sono dati via da sta galera. E non si spaccano nella schiena per quei quattro soldi che ci danno. Io il lavoro che devo fare lo faccio. Dall'ufficio nessuno mi rompe le palle. E a casa mi prendo. Sì? Eh, ero in turno. Non potevo rispondere. Eh, ma non posso mica staccare da qua. Ma non puoi andare tu. Ma io non... Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Sì, vi raggiungo lì. Ma viene anche tu, che sennò come facciamo a tornare a casa? Sì, vi raggiungo lì. Devo staccare prima. Questa volta gli facciamo il culo. Sì, ma c'è da stare all'occhio. Dicono che ci sono molte più guardie in giro. Non impara a noiarti. Quella zona non ce la asciugano. Dai, ora stacco che metto qualcosa sotto i denti. Sì, sono arrivati anche tutti i ragazzi. Gli altri senn già finiti. Non è che posso saltare la spesa tutti i giorni. Non puoi mangiare qui. Eh, io vado. Oì. Sì, ce l'ho io il buco. Eh, a che ora ci si becca con gli altri? Sì, ma ce l'hanno la roba. Dai, ci vediamo lì. Bella. Ma devo fare tutto io in questa casa! Supera la via defensiva! Sbarca la ripresa! E dai, cazzo! Lele, il buco che si può! Raga, piano, qua ci blindano! Fammi luce Lele, dai! Un altro gol? Ma chi se ne frega! Guarda qui che masterpiece! Merda! Te li amo, raga! Merda! Va bene, volta avanti! Va bene, volta avanti! Avanti! Ci mancava anche questa! Io vorrei capire cosa intendi fare della tua vita! Non fai un cazzo tutto il giorno e la sera vai a imbrattare i muri con quei rigoglionici di tuoi amici! Sarebbe questo il tuo capolavoro? Dai, dai, vediamo sta opera d'arte, va! Eh? Che... che... c'è scritto? Fatemi volare via! Andiamo che domani... Devo... devo fare la spesa! Cosa manca oltre ai biscotti? Grazie! Grazie!